Chi di noi conosce la sua vita, la sua storia, le sue vicende, come si svolgerà la vita di ciascuno di noi? Ma così è ciò che avviene per i due apostoli di cui la parola di Dio ci parla, Paolo e Pietro. Paolo è colui che considera vivo quel Gesù che è stato crocifisso ed è morto in croce. Pietro è colui che per ben tre volte risponde alla domanda tu mi vuoi bene, tu mi ami più di costoro? E poi gli viene detto tu andrai dove tu non vorrai. Cioè questi due apostoli ci mostrano che nessuno di noi conosce la sua vita e il suo futuro, però abbiamo dei punti di riferimento, o meglio un baricentro o meglio il centro di gravità permanente su cui ruota la nostra vita. Paolo e Pietro non avrebbero mai immaginato che loro sarebbero andati a Roma e lì si sarebbe conclusa la loro vita e Roma sarebbe diventato la culla della fede cristiana. Però è l'amore per Cristo o meglio l'amore che Cristo ha mostrato a loro e hanno sperimentato che ha portato a far sì che tutta la vita ruoti attorno a questo. Così vale anche per noi. Cosa sta a baricentro della nostra vita? Cosa sta al cuore? Noi non sappiamo la nostra vita, non sappiamo tutto ciò che succederà. Ciò che sappiamo è che tutto il nostro cuore, tutta la nostra esistenza è fondato su colui che ci dà la vita la vera, la vita piena. Buon avvisio.